Dopo aver ottenuto l'agibilità per due anni per lo stadio comunale Città di Arezzo, adesso si punta ad ottenere un'agibilità perenne, senza di volta in volta ottenere un'autorizzazione. Il traguardo dunque è stato raggiunto, domenica l'Arezzo potrà giocare con il pubblico in casa nel debutto con l'Arzachena. È stata fatta una verifica di vulnerabilità sismica che è stata accolta dalla prefettura, dalla commissione, che ci ha dato un'agibilità per due anni. Ci hanno chiesto di fare verifiche ulteriori in modo tale da avere un'agibilità perenne. Questo che è il nostro obiettivo, non andare di rinnovo e rinnovo, ma avere un'agibilità perenne. Sicuramente i calcoli ci conforteranno. A breve il tecnico farà queste ulteriori verifiche in modo tale da chiedere la convocazione della commissione il prima possibile e sperare di avere quindi un nulla osta permanente per l'agibilità dello stadio. Questa ghia è una grande soddisfazione per l'amministrazione perché lo stadio non ha mai avuto l'agibilità. Si è sempre andati avanti di deroga in deroga, di proroghe e compagna bella. Siamo uno dei pochi stadi ad avere una verifica di vulnerabilità sismica sul territorio nazionale e avere una concessione perenne e quindi avere tutte le carte in regola per noi sarebbe veramente un raggiungimento di un obiettivo veramente molto importante. Quali sono i settori che riguardano l'agibilità? Tutti i settori, fuorché la maratona ovviamente che non è stata neanche presa in considerazione, quindi la curva nord, la curva sud e la tribuna centrale.